Ciao, sono Marco Doria e oggi voglio raccontarti la vita straordinaria di Henry Ford. Partiamo da un presupposto. È stato un genio, un genio della meccanica, è considerato un eroe nell'immaginario popolare americano. Ha segnato una vera e propria rivoluzione industriale nella società del ventesimo secolo e ha fatto una cosa straordinaria, ovvero ha fatto sì che le persone comuni potessero permettersi l'automobile. Certo perché prima, dobbiamo sapere, le automobili erano roba da ricchi. Lui ha fatto in modo, grazie alla produzione in serie, che tutti, che la massa e anche le persone più povere potessero permettersi un'automobile. Questo è stato possibile proprio per aver inventato la produzione efficiente a costi ridotti, quella che noi poi conosciamo come catena di montaggio. Quindi non si è limitato a inventare un processo di produzione, ma ha proprio rivoluzionato il modo in cui le persone si spostano da un punto all'altro e quindi ha cambiato la vita delle persone. E pensate un po' che lui era figlio di ricchi bigotti agricoltori irlandesi, da cui ha ereditato determinazione, ma anche delle brutte idee antisemite, delle quali forse lui ha ignorato la gravità. Sì, in effetti lui odiava fortemente gli ebrei e non sapeva neanche bene il motivo. Questo probabilmente deriva dalla cultura che aveva assimilato dai suoi genitori. E sta di fatto che ha anche appoggiato Hitler nella sua campagna e questo sicuramente non ha fatto bene alla reputazione di Henry Ford. Possiamo proprio definirla come una grandissima contraddizione perché lui era un imprenditore visionario con delle capacità mentali uniche, eppure un cervello molto chiuso dal punto di vista sociale. È stato comunque un uomo straordinario, riuscito a fronteggiare delle crisi finanziarie molto importanti, dei fallimenti importanti, al punto che è arrivato anche a essere una delle persone più ricche della storia. Certo, non ci arrivi se non hai un grande cervello e una grande mente a essere uno di questi. Ma ora vediamo come ha fatto. È il 30 luglio 1863. Henry Ford nasce a Dearborn, nel Michigan. I suoi genitori si chiamano William e Mary e come abbiamo detto sono dei proprietari di una ricca fattoria. Henry Ford quindi nasce in mezzo ai campi e comincia a vedere quelli che sono i primi trattori, i primi motori, proprio perché servivano all'industria agricola per poter aumentare la produzione. Lui nasce quindi in un contesto rurale, in un contesto contadino, ma è anche vero che vive quello che è il primo ingresso del mondo dei motori applicati all'agricoltura. Ed ecco che a 16 anni, nel 1879, Henry decide che non ne vuole sapere nulla di lavorare con i genitori, per loro grande dispiacere. E quindi decide di andare incontro a quella che è stata la sua passione fin da piccolo, ovvero i motori. Vuole farlo a tutti i costi e per farlo decide di trasferirsi a Detroit, dove la magia della meccanica stava cominciando a nascere. Quindi tra i 16 e i 19 anni lavora come apprendista presso un'officina meccanica. Certo, possiamo immaginare cosa volesse dire essere nel 1879 un apprendista. Abbiamo fatto questo paragone anche con Leonardo del Vecchio, se ricordate, in questo video. E chiaramente qua stiamo parlando di quasi 100 anni prima. Insomma, si è appena usciti dalla schiavitù, forse, in America e ci sono ancora queste idee che girano tra gli stati, perché c'è lo stato sudista, lo stato nordista. Insomma, è da poco che si è usciti da questa situazione. Quindi immaginiamoci cosa volesse dire essere una persona in stato di apprendimento. Chiaramente sei leggermente sopra uno schiavo, però lui non si abbatte, chiaramente, perché è molto determinato, come abbiamo visto. Dai genitori ha imparato a essere serio, determinato e molto cinico. E quindi lui sfrutta tutto questo e anche il suo grande interesse e curiosità per il mondo della meccanica e quindi acquisisce queste competenze pratiche che lo aiutano a comprendere come funziona l'ingegneria. Chiaramente all'epoca era molto più semplicistica l'ingegneria di quella che è oggi, quindi era più facile facendo cose manuali comprendere il funzionamento. Il motore poi fondamentalmente si riduce in poche fasi, soprattutto in quei motori primordiali e quindi lui riesce a comprendere anche il funzionamento ingegneristico di queste macchine. Siamo praticamente appena usciti dal trasporto mezzo cavalli, si sono sperimentati poi mezzi a vapore, mezzi a trazione muscolare come la bicicletta, mezzi a vela e soprattutto quelli a gas e benzina. Quindi da questo nacquero le prime fabbriche per poter produrre i motori. Ricordiamo che il primo, anzi il pioniere del motore a combustione è stato Carl Benz che ha, diciamo, creato, idealizzato il primo motore a combustione interna a due tempi e quindi inizia quella che è la carriera motoristica di Henry Ford. Ci spostiamo al 1888, Henry ha 25 anni e decide di sposarsi con Clara Bryant, quindi di formare la sua famiglia. Poteva già essere un punto di partenza, lui comunque aveva un lavoro affermato perché era bravo in quello che faceva, si era sposato, poteva tranquillamente fermarsi qua, ma lui non era soddisfatto e quindi ha tentato di fare la scalata di carriera. Nel 1891, all'età di 28 anni, diventa ingegnere alla Edison Illuminating Company di Detroit, sì, proprio quella Edison che abbiamo visto in questo video. Nel 1893, all'età di 30 anni, nasce Edsel, quello che sarà poi il loro unico figlio. E ora che Henry ha la sua bella famigliola, la famigliola del mulino bianco, o forse in questo caso del motore bianco, possiamo dire, vista la passione di Henry Ford, decide comunque che non gli è abbastanza. Lui vuole far di più, ha delle idee, vuole metterle in pratica. E quindi nel 1896, all'età di 33 anni, costruisce quello che sarà il suo primo veicolo e lo chiama Quadricycle, che sarà alimentato da un motore a quattro cilindri. Si tratta del passo fondamentale che delineerà quella che sarà la sua carriera, ovvero mettere sul tavolo qualcosa creato da lui. E questo gli permise, nel 1899, di fondare con un socio di capitali la Detroit Automobile Company, quella che gli permetterà chiaramente di entrare nel mercato. Lui aveva chiaramente il suo Quadricycle e dice, senti, io so fare qualcosa, facciamolo insieme, chiese al suo socio di capitali, e così fondarono quest'azienda. Però, purtroppo, quest'azienda fallisce. Ci sono delle perdite economiche molto gravi e problemi di gestione. Sia il socio che Henry Ford non sapevano fare gli industriali, non sapevano creare un'industria automobilistica. Però Ford, lo sappiamo, è un testone, non si scoraggia per niente. Così nel 1901 prende 11 investitori, li fa sedere a un tavolo e dice, signori, dobbiamo fondare un'azienda. Io ho le capacità per farlo, voi avete i soldi, facciamo questa cosa insieme e chiamiamola Henry Ford Company, che poi diventerà la Cadillac Motor Company. E anche qua fallisce. Questo perché Henry aveva un grosso problema. Come abbiamo detto, aveva genitori bigotti, lui era molto chiuso mentalmente e quindi non riusciva a condividere le sue idee con altri soci. E quindi questa azienda la lascia perché non va d'accordo con gli investitori. Gli volevano dire cosa doveva fare e lui diceva, senti, ragazzi, state un attimino fermi là. Io sono quello che ha le idee, io sono quello che sa fare la macchina. Cosa volete da me? Silenzio, datemi solo i soldi. Questa cosa non ha potuto funzionare. Chiaramente Henry Ford ci riprova. Nel 1903, a 40 anni, fonda quella che sarà la Ford Motor Company, però con ovviamente dei diversi investitori. A questo giro però gli dice, signori fermi, io ho avuto già brutte esperienze, ok? Ci ho provato con un socio una volta, non è andata bene. Ci ho provato una seconda volta con 11 soci, è andata malissimo. Questa volta dovrà funzionare e per farla funzionare, per favore, silenzio e fatemi lavorare. Purtroppo però, produzione e vendite, anche in questo caso, sono molto inferiori alle aspettative e ciò porta all'azienda sull'orlo del fallimento. In questo caso però, Henry Ford chiese l'intervento ad altri investitori, così riuscì a superare la crisi finanziaria e a mettere in produzione, finalmente in vendita, i suoi modelli. Ed è così che nel luglio del 1903 vende la sua prima auto, finalmente la prima vendita, era il modello A, un'auto rossa, e pare che fosse stata venduta a un ricco medico di Chicago. Quindi da qua partono anni di sperimentazioni e prototipi. Ford doveva concettualizzare e realizzare la miglior macchina di sempre. E a 45 anni, nel 1908, introduce il modello T, che diventa subito un successo clamoroso. E questo, grazie a un'intuizione di Henry Ford, doveva fare macchine per tutti. Non è possibile che solo i ricchi possano avere le automobili, le dovevano avere tutti. E quindi cosa fa? Crea un modo, un modello, un sistema per rendere accessibile la macchina. E lo fa con una produzione in serie che abbassa i costi. E quindi dice ok, dobbiamo trovare modi per farla costare poco. Il colore sarà solo nero, perché costa poco e boh, non importa. Ok? Tutte le macchine saranno nero, ma io le devo fare per tutti. E questa idea funziona. Che bello il successo, però dal successo nascono i problemi. E il problema grosso che aveva Ford era che riusciva a produrre solo 25 auto al giorno. La richiesta era molto superiore. E di necessità virtù si inventò un metodo. Ovvero introdusse quella che era la catena di montaggio per la produzione del modello T. E fa la rivoluzione dell'industria manifatturiera, perché prima le auto venivano assemblate un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, creando dispersione e costi ovviamente importanti. Questo nuovo sistema riesce a produrre molte più auto e riesce a ridurre ancora il prezzo. Però c'è un dettaglio che non è proprio un dettaglio, ma è una cosa molto importante. Le condizioni di lavoro degli operai non sono assolutamente facili. Considerate che si trovano a lavorare per ore e ore svolgendo la stessa identica azione. All'epoca non si dava tanta importanza a queste cose. Consideriamo che le persone arrivavano dai porti, arrivavano dall'agricoltura. E quindi già tanto che ti dò un tetto sopra la testa, lavora e silenzio. Come dicevamo prima, siamo leggermente un pelo sopra la schiavitù. E sicuramente agli imprenditori dell'epoca non gliene fregava niente che eri alienato a fare cose. Già tanto che ti dò un lavoro. Però bisognava risolverlo questo problema, non si poteva andare avanti così. Anche perché le persone poi se ne andavano, tornavano nei campi, tornavano a scaricare al porto. E quindi Ford nel 1914 introdusse una politica di salario elevato. Ed è stata una rivoluzione anche questa, ovvero aumenta gli stipendi solo ed esclusivamente per eliminare quello che era il turnover e per attirare lavoratori qualificati. Cioè, oltre che essere una cosa generosa, che poi aveva un tornaconto, era una cosa molto visionaria per i tempi. Quindi gli diamo credito che ha inventato anche quello che poteva essere il welfare. Le cose vanno talmente bene che nel 1917 a Dearborn, quindi la città natale di Henry Ford, viene eretto il Ford Rouge Complex, che è lo stabilimento di Henry Ford più famoso. Ed è anche quello più innovativo per l'epoca. Quindi sta creando una vera e propria industria ed è partito da zero. Pensate un po' che era concepito per accogliere fino a centomila lavoratori. Una cosa enorme per l'epoca. Consideriamo che quando è partito in un garage saranno stati tre, quattro. Ora aveva un impianto che poteva ospitare oltre centomila persone. Ma anche dietro questo c'era un'idea ben precisa. Ovvero, Henry Ford disse, per diminuire ancora la dispersione, quello che dobbiamo fare è internalizzare i processi. Ovvero farci tutto. Quindi non diamo più le materie prime a pinco e a pallino. No, ce le dobbiamo fare dentro. Più è stretto il cerchio, più i costi diminuiscono. Ed è così che nasce appunto la Ford, intesa come Ford che produce macchine a basso prezzo. Ricordiamoci sempre però che Henry Ford era molto scorbutico. E quindi nel 1919 fa una mossa. Ovvero rileva tutte le quote degli azionisti perché questi potrebbero, anzi possono e a volte vogliono, ostacolarlo nella gestione dell'azienda. Quindi fa come ha fatto proprio Leonardo del Vecchio. Ragazzi, grazie, mi avete aiutato ad arrivare fino qua. Ora prendete questi soldi e vi saluto. Difatti qua parte una fase di sperimentazione tutta nuova. Ora può fare quello che vuole e comincia a sperimentare anche altre cose. Comincia a fare trattori, comincia a fare aerei. Insomma, comincia a espandere la sua produzione anche in altri settori. E nel frattempo suo figlio Edsel era cresciuto e gli dice papà, però qual è il mio posto? Il tuo posto, mio caro, sarà come presidente dell'azienda. Lui credeva molto nella successione perché era molto attento alla famiglia. Abbiamo detto che era bigotto e chiuso. Ecco, lui però aveva un grande senso familiare e al figlio gli aspettava chiaramente il posto da presidente e quindi appena ha avuto l'età l'ha messo sulla poltrona e ha detto tu mettiti là che papà continua a sperimentare a fare cose. Però questa libertà di agire forse lo fa andare un po' fuori di testa e quindi nel 1920 all'età di 57 anni firma e pubblica una serie di articoli contro gli ebrei che ovviamente promuove teorie cospiratorie e stereotipi molto negativi, cose che non gli fanno assolutamente bene alla reputazione. Anzi, la sua reputazione è fortemente danneggiata. Questo sapete cosa induce? Induce a un boicottaggio dei suoi prodotti, ovvero le persone dicono ma senti ma perché io devo comprare le macchine di quel pazzo là che ce l'ha con gli ebrei che è mio zio ebreo, io sono ebreo e il mio vicino di casa è ebreo. Sapete che c'è? Non le compriamo più. E fino ad arrivare a un certo punto che gli amici dicono, uè Harry ma anche i parenti più stretti, non puoi far così. Cioè guarda che questa cosa danneggia le vendite, dai delle scuse, vai davanti a tutti, scusati, dica una cosa che non pensavi nemmeno. Ma non è molto credibile quello che fa anche se cercherà di metterci una pezza. Anche perché cioè cerchiamo di comprendere il contesto. Alla fine dell'ottocento l'antisemitismo era una cosa molto diffusa tra gli agricoltori del Michigan e Henry Ford lo assimila. Quindi lui era una persona semplice nata nei campi, ha preso quattro nozioni da quello che lo circondava se le portate appresso per tutta la vita, tra cui l'antisemitismo. Solo che un agricoltore finché si lamenta col suo vicino di campo va tutto bene, questa cosa non lo danneggia. Ma quando sei una persona di fama, la persona più importante dell'industria automobilistica americana, non ti puoi permettere queste cose. E quindi, proprio nel periodo caldo che era quello della preparazione dell'ascesa italiana, la reputazione di Henry Ford è letteralmente compromessa. Cerchiamo però di immaginarci un attimo Henry Ford in quei momenti. Da una parte abbiamo un genio, un innovatore, una persona che ha creato cose che nemmeno venivano pensate dalle persone e ha creato un'immensa industria, cioè tutti avevano una Ford. Le persone che prima non potevano permettersi un'auto, ora ce l'avevano grazie a lui. E questo poteva far di lui anche un dio, un eroe. Però dall'altra parte abbiamo una persona, per carità, dedita al lavoro, alla famiglia, ambiziosa, ma molto chiusa mentalmente, ignorante a livello sociale e razzista. Ecco, possiamo dire che poteva essere il classico caso di persona che ammiri, ma quando la conosci dici, mamma mia che brutta persona che è questa. Ecco, Henry Ford sicuramente doveva avvicinarsi a questo modello. Certo che se Henry Ford avesse letto come guadagnare online in modo professionale, scritto da Marco Doria e edito da Herply, beh, tanti errori non li avrebbe commessi. Proprio perché questo qua è un manuale che ti spiega come creare un brand e come non fare errori di reputazione, ma soprattutto come lavorare in modo professionale nel mercato digitale. Caro Henry, se l'avessi letto, però comunque continua a migliorare quella che è la produzione, il metodo di produzione e introduce nel 1924 il metodo Fordson, che si basa su linee di assemblaggio. E questa cosa viene anche adottata in altri settori industriali, cioè cominciano anche a prenderlo come esempio. Si dicono, sentite un attimo, ma se Henry Ford riesce a fare delle cose così belle, così di massa, così a basso costo, ci sarà un motivo? Cerchiamo di copiare un po' quello che fa e così fanno anche gli altri. Consideriamo che negli anni venti c'erano poi tre industrie, erano Ford, General Motors e Chrysler e non c'erano altri che dominavano l'industria automobilistica. Però Ford è sempre stato in cima proprio grazie alla produzione di larga scala del suo modello T. Ma le altre case automobilistiche avevano una cosa, ovvero cominciavano a fare auto che non erano solo per tutti, ma cominciavano a essere esteticamente belle e motoristicamente potenti. Cioè stavano affrontando, stavano entrando, stavano creando quello che era il settore del lusso dell'automobili. Quindi a Ford dicevano, sì sì, tu fai le macchine per tutti, ma noi facciamo delle macchine un po' più belle e prima o poi arriviamo, stai tranquillo che arriviamo. Henry Ford diceva, sì sì, arrivate, arrivate, io comunque ho 64 anni, nel 1927, il mio modello T ha raggiunto i 15 milioni di unità prodotte, arrivateci voi. E infatti questo è stato un record assoluto per la storia delle automobili. Però quando si tocca la vetta, prima o poi tocca affrontare la discesa. Il mercato sta ovviamente cambiando e la concorrenza che si sta attrezzando per un settore un po' più lussuoso, quindi che riguarda anche utilità più estetiche, sta cominciando ad avere successo e automaticamente la produzione del latti comincia a calare. Cala talmente tanto che a un certo punto non si può più fare, cioè il modello è in crisi, obsoleto, basta, la gente non lo vuole più. E quindi Henry Ford dice, ok, va bene, cerchiamo di creare un altro modello. Riprendo il modello A e cerco di fare un'auto di nuovo per soddisfare questi che sono i nuovi gusti dei consumatori. E mentre Henry Ford si sforza di mettere a posto le cose, nel 1931 purtroppo la Ford entra in crisi, quindi è obbligato ad abbassare i salari e a licenziare. E nel mentre che licenzia gli operai sono scontenti, lui comunque deve fare qualcosa, non si può permettere di far fallire la sua azienda, quindi sempre nel 1932 presenta quello che sarà il modello V8. E questo modello per fortuna permette alla fabbrica di risollevarsi, quindi di stare a galla nonostante la crisi e la depressione che stava vivendo in quel periodo scorico tutta l'America. Ma è anche periodo di grandi scioperi. Comunque le cose non andavano bene e nel 1936 ci fu uno sciopero chiamato sit down, ovvero persone sedute nello stabilimento della Ford. Ed è il primo sciopero così significativo, tanto che Henry Ford ci rimase male. Ma come? Non l'avete mai fatto? È certo che non l'hanno mai fatto. Una volta gli scioperi non si potevano fare perché ti ammazzavano, ti buttavano fuori a calcio, eccetera. Però gli operai cominciano ad accordarsi e attenzione, brutto capo che ci ha abbassato gli stipendi. Noi siamo tanti, guarda che se ci sediamo qua l'azienda mica va avanti, non hai tanta vita lunga, quindi vedi di rivedere un po' le carte in tavola. E queste carte in tavola sono semplici, migliori condizioni, salari migliori e vogliamo la rappresentanza sindacale. E no, è qua che Henry Ford si incazza. Io non voglio assolutamente che i sindacati si intromettano nella mia azienda, perché questi qua fanno sì che poi non si riesce più a lavorare bene, siamo pazzi all'epoca i sindacati, o per carità. Ma gli operai non mollano, vogliono i sindacati. Henry Ford si trova in una posizione un po' ambigua, ovvero io sono sempre stato padre padrone, ok? E quindi prova anche con atti di violenza a scoraggiare gli scioperanti. Ma questa tecnica non funziona. Anzi, la sua reputazione già non troppo bella diventa ancora più negativa e i rapporti con i lavoratori diventano veramente complessi. E tanto per peggiorare un po' le cose. Nel 1938 Adolf Hitler conferisce a Ford quella che è la gran croce del supremo ordine dell'Aquila tedesca, ovvero la più alta onoreficenza che il regime nazista può conferire a uno che non è tedesco, ovvero a uno straniero. E questo gliela dà proprio per l'impegno della filiale Ford Germania nel rifornire l'esercito nazista. E non ci dimentichiamo che Ford ha anche foraggiato con 50.000 dollari il partito di Hitler. Siamo nel 1941, la reputazione di Ford è veramente messa malissimo, ha 78 anni, comincia ad avere una certa e a un certo punto deve mollare perché altrimenti perde tutto quanto. Quindi la Ford viene finalmente sindacalizzata. L'accordo si chiamerà l'accordo contrattuale di Flint e questo accordo porterà alla creazione del sindacato UAV, ovvero United Auto Workers. E quindi finalmente nell'industria automobilistica, nella Ford, si cominciano ad avere salari più adeguati, mansioni più corrette e anche orari di lavoro meno pedanti e meno pressanti. E si comincia quindi a star meglio. E sembrerebbe che adesso ci potrebbe essere un po' di pace per il povero Henry Ford. Assolutamente no. Nel 1943, per un tumore allo stomaco, purtroppo muore il figlio Edsel, ovvero il presidente dell'Henry Ford. Il povero figlio aveva solo 49 anni. Henry Ford prende veramente un grosso colpo, anche perché ha 80 anni, è stanco, si vorrebbe ritirare. Eppure a quest'età perde un figlio e si ritrova di nuovo al comando di quella che è la sua azienda. Questa condizione non può durare molto. È il 1945, Henry Ford ha 82 anni, non ce la fa veramente più. Si dimette e lascia la gestione a suo nipote, ovvero Henry Ford II. Comunque è riuscito a mantenere quella che è la successione. Lo sappiamo, Henry Ford era molto attaccato alla famiglia, ci teneva molto a questo e per fortuna suo nipote ha preso il posto del papà. Qui si conclude quindi la carriera di Henry Ford. Nel 1947, all'età di 84 anni, muore a Dearborn nel Michigan a causa di un'emorragia celebrale. Cosa abbiamo imparato da Henry Ford? Beh, in primis possiamo dire che è stato un grandissimo imprenditore, un imprenditore con la I maiuscola, un innovatore, un inventore che ha rivoluzionato l'industria automobilistica, ha fatto la storia ed ha anche accumulato enormi ricchezze grazie a questo, perché si stima che comunque al momento della morte avesse un capitale di 199 miliardi di dollari al netto dell'inflazione. Cosa non certa perché non ha mai diviso il conto personale dal capitale aziendale, però la stima è questa. Ed era anche una persona semplice, aveva abitudini semplici, proprio come un contadino, aveva uno stile di vita modesto che gli avevano trasmesso i genitori, era uno che non spendeva, non sperperava, risparmiava i soldi. Era anche vegetariano e astemio, proprio come il suo amichetto Hitler, tra l'altro. Però il mondo da lui ha ereditato un brand, un'azienda automobilistica di successo che ancora oggi fa la storia e ha introdotto quelle che erano delle metodologie di produzione che hanno cambiato il volto dell'industria manifatturiere e ha fatto sì che molte persone che non potevano permettersi un'auto, di punto in bianco si sono ritrovati con un mezzo di trasporto. Tuttavia abbiamo visto che l'Henry Ford imprenditore non era coerente con Henry Ford l'uomo e forse Henry Ford l'uomo era coerente con il mondo da cui proveniva, quindi un mondo contadino, da cui per scapparne aveva aperto la mente all'innovazione, ma che comunque aveva radicato in lui queste idee antisemite che hanno lasciato in lui un'ombra indelebile. Sarà comunque in ogni caso ricordato e acclamato per sempre per questa sua straordinaria capacità innovativa e imprenditoriale. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando, solito like, solito commento e solito ci vediamo alla prossima.